Un pestaggio a sangue per rubare un cellulare. E' questo solo l'ultimo dei numerosi episodi di violenza che vede come protagoniste le baby gang della capitale. E' accaduto venerdì scorso alle 10 del mattino alla stazione Montemario, dove un gruppo di almeno 6 ragazzi ha ferito pestando con calce e pugni un uomo di 30 anni nel tentativo di rapinarlo. Nella stazione sono presenti delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero aver ripreso il branco al momento già accaduto. Un fenomeno in netto aumento, soprattutto nell'ultimo periodo. Sempre la scorsa settimana la vittima del pestaggio era stata un 17enne sulla Toscolana e due settimane fa un rider a Piazza Navona. Nella zona della stazione Montemario, specie vicino agli istituti scolastici, la condizione di disagio è evidente anche da parte di molti insegnanti. Vediamo episodi veramente preoccupanti. Totale mancanza del rispetto delle regole, ma quelle di base, non attraversare sui binari. Più volte sono stati chiamati carabinieri. Secondo i dati dell'Osservatore nazionale sull'adolescenza, il 6,5% dei minorenni fa parte di una banda. Il 16% ha commesso antivandalici. Tre ragazzi su dieci hanno partecipato a una rissa. Solo nel 2020 ci sono stati 30.000 denunciati e più di 700 arresti di minori.